Di Raffaele Bellafronte il collega Marco Cavuta eseguirà frammenti d'ombre e luci per sacciovano con fratto solo. . 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.